Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Due chilometri di coda invece causa lavori tra il Vivio con la variante del Valico e Sassomarconi in direzione Bologna. Rimaniamo sulla 1 perché si ricorda che a causa di lavori fino alle 18 di domani 1 aprile rimarranno chiusi i tratti tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna e Trappiando il Voglio e Aglio in direzione Roma. In Fipili a causa di lavori rallentamenti tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa. Si segnalano anche code a causa di un incidente tra San Minato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Chiudiamo con la viabilità della città di Firenze e possibili disagi a causa di un incidente avvenuto in Viale Manfredo Fanti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!